buongiorno a tutti allora 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 dobbiamo andare a vedere come è andata la quinta giornata dell'europa league e poi naturalmente faremo l'altro video sulla conference league partiamo dalle squadre italiane allora l'atalanta ma andava bene anche il pareggio pareggia uno a uno con lo sporting poi vedremo la classifica e dovrebbe avere in tasca la qualificazione con anche il primo posto nel girone peccato che a parte i gol annullati al povero scamacca per fuorigioco veramente abbastanza al limite però come dico sempre che sia un centimetro che sia un metro 66 avanti e fuorigioco poi però si è vendicato o forse gli ha dato abbastanza buono perché forse era più in fuorigioco nel primo gol del secondo gol quello che gli ha dato buono che non nell'altro ma va bene così perché ha fatto anche un gran gol con un bel tiro da fuori aria poteva avvicinarsi di più invece ha preferito tirare si vede che ha sentito proprio il piedino caldo e ha portato in vantaggio l'atalanta poi purtroppo lo sporting ha pareggiato e potevano anche perdere come potevano anche vincere poi perché poi dopo dopo il pareggio dello sporting è successo un po di tutto io la partita non l'ho vista perché stavo vedendo diretta gol quindi ribalzavano dai due campi però ogni volta che passavano dalla parte della gara dell'atalanta o attaccava una o attaccava l'altra non c'è stato un momento in cui giravano attaccava l'atalanta giravano attaccava l'atalanta no era un po un po per uno un po per l'altro quindi alla fine pareggio giusto pareggio che comunque l'atalanta va bene un po meno il nostro ranking ve lo dicevo anche prima speravo di fare l'unplay di queste tre gare e invece due pareggi è una è una è una vittoria in conference però e questa è l'atalanta veniamo purtroppo alla roma ma la cosa ci ho sentito ho sentito sicuro era inviperito inviperito era lupacchiottato perché lui è lupacchiotto ti fa a magica c'ha la lupa e quindi era il lupacchiottato era lupacchiottato ha detto che non è possibile fare queste figure non è possibile pareggiare col servet addirittura ha raggiunto l'apice dicendo che magari qualche giocatore il calciatore lo fa come hobby e ha un altro lavoro ben più importante della vita poi lo fa non voglio offendere nessuno però e poi fa voglio andare a vedere il servette del campionato svizzero come messo andiamo a vederlo subito il campionato svizzero e dov'è il servette strano che uno così preciso come lui non lo sappia comunque siamo 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 alla quindicesima barra quattordicesima giornata e il servette ragazzi il servette non c'è no è terzo è terzo è terzo terzo con 28 punti a pari merito con lo young boys che però lo young boys ha una partita in meno al comando c'è lo zurigo quindi zurigo young boys servette ma sono tutti lì pochi punti poi il sangallo il lucerna e il lugano che è sesto le squadre che stanno giocando la champion sono lugano servette young boys e zurigo se non sbaglio quattro dovrebbero essere quindi non è adesso così male come si pensa però ragazzi via e ripeto la roba giocava contro una squadra svizzera è vero che la nazionale svizzera è tanta roba però andare a pareggiare uno a uno col servette poi dopo ho sentito anche le parole di murigno che diceva senza fare nuovi è stato carino non ha fatto nuovi perché anche il giornalista ci ha provato a tagli il nome no dicendo questo qua ma non faccio dubbi e poi ha detto anche una cosa che farà riflettere molto la società fa io purtroppo non sono due no le possibilità che a guardiola no perché se un giocatore della formazione di guardiola si mette a giocare così lui lo spedisce arrivederci grazie che prende un altro noi purtroppo non possiamo permettercelo quindi l'unica cosa che posso fare continuare a battere il martello cercando di far capire a questi giocatori che tutte le partite sono importanti e che non si entra in campo molli io quando sento che i giocatori hanno bisogno delle motivazioni di cazzo come una iena perché ragazzi miei o quando gioco giocavo perché dal scorso giugno di quest'anno dell'anno scorso che mi sono rotto il naso non è che ho più tanta voglia di andare a giocare a calcio a 5 a rischiare di farmi male visto che tra quattro mesi ricomincio a lavorare e non vorrei essere perché in questo momento mi interessa molto di più quello che non fare un'oretta di calcio a 5 ecco per intenderci però quando giocavamo malogoratamente o per nostra fortuna passava di lì qualche bella figliuola che si fermava anche solo cinque minuti a guardarci cioè io mi esaltavo iniziamo a fare il doier della situazione che mi diceva Gigi smettila ma capitava anche quando ero ragazzino quando ero ragazzino io ricorderò sempre aveva giocato una partita poi proseguiamo con la questione europa link scusatemi vi racconto questo aneddoto veloce poi proseguiamo e era la sfida inter milano quindi c'erano compagnia eravamo divisi chi giocava nell'inter che giocava nel bilan squadre molto equilibrate quella volta lì dalla volta successiva non erano equilibrate per niente e abbiamo straperso nonostante mi sia comportato più che dignitosamente ma erano nettamente superiori a noi noi veramente avevamo una squadra invece quella quella sera quel giorno lì che abbiamo fatto questa partita prima volta che giocavamo eravamo forti noi e forti loro e il primo tempo terminò 2 a 1 per il mila era un campo a 7 non era calcio a 5 era calcio a calcio a 7 della ripresa io di fianco alla porta due figliuole due ragazze della nostra età mi hanno detto pensi di riuscire a non prendere gol del secondo tempo non ho preso gol ho parato tutto per farmi capire che basta poco per avere le motivazioni due gnocchette due gnocchette non 60 mila spettatori e milioni di gente che ti vede a casa più lo stipendio che prendi quindi quando sento un allenatore i giocatori non avevano motivazioni perché la squadra rispetto ma stai scherzando ma comunque ragazzoli detto della roma detto dell'atalanta andiamo a vedere il resto della giornata che è iniziata si fa per dire perché un po di partite erano le 18 e 45 8 e 8 con sparta praga betis che ha visto la vittoria dello sparta praga sul betis per 1 a 0 poi andremo a vedere il girone come messo il brighton senza difficoltà dato a vincere 1 a 0 in casa della ik che tra l'altro è rimasto pure in 10 al 65esimo comunque era il gol era arrivato prima al 55esimo con rigore di joao pedro poi il west ham ha vinto solo 1 a 0 con la bacca topola squadra serba che l'ha messa anche grave difficoltà serie che west ham appunto le motivazioni no quello che vi dicevo una squadra che potrebbe fargliene 4 5 al bacca topola a momenti rischia anche di perdere poi il friburgo ha quasi giocato a tennis con l'olimpiacos quello che vi continuo a dire le squadre greche fuori dalle mura domestiche sono molto più malleabili e comunque il friburgo una bella squadra tedesca lo sturgratz perde clamorosamente in casa col cesto cova 1 a 0 e adesso si giocheranno il posto loro due per la conference se non erro il ren va a vincere 3 a 0 col maccabi haifa pensavo che un golletto il maccabi riuscisse a farlo invece il ren non ha avuto alcuna pietà il tolosa dopo il miracolo di aver battuto il liverpool non va oltre lo 0 a 0 con l'union san gilwa ma dovrebbe avere comunque almeno il secondo posto poi vedremo la classifica l'olimpique marsiglia vince la più bella partita di giornata 4 a 3 con l'ajax con un ajax che non è mai domo nonostante rimanga in 10 perché dal sessantatresimo rimane in 10 sotto 3 a 2 però riesce con i cambi eccetera a pareggiarla poi però il portiere la prendo la prendo la prendo mi scappa si tuffa l'attaccante per colpire di testa al portiere gli dà uno ceffone calcio di rigore e quindi proprio al 90 e qualche cosa calcio di rigore e l'olimpique marsiglia batte 4 a 3 l'ajax e temo che l'ajax svulazzi a casa il liverpool rischia di giocare a tennis con l'ask vince 4 a 0 bond e quara bag fanno due a due abbastanza spettacolare divertente eccetera 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 il buyer leverkusen va a vincere 2 a 0 in casa del lachen il mila real si porta sul 3 a 0 poi a momenti viene recuperato dal panathinaikos la partita finisce 3 a 2 bella partita anche a tiraspol dove lo slavia praga la spunta solo alla fine perché è stato un rincorso sia vicenda slavia che passa in vantaggio lo sheriff che la ribalta va sul 2 a 1 slavia che pareggia e poi al 90 al novantesimo quando ormai la partita è quasi finita segnal gol del 3 a 2 i rangers non vanno oltre l'1 a 1 con l'aris limassol mercoledì 6 dicembre si recupera villa real maccabi aifa e poi l'ultima giornata si giocherà naturalmente il 14 di dicembre si non ci sono nell'europa league non dovrebbe avere anticipi bisognerà vedere la conference che c'erano quelle due squadre che forse hanno il campo da calcio senza illuminazione o cosa bisogna giocare al pomeriggio e vedremo come cosa decideranno se detto questo ragazzoli andiamo a vedere le classifiche tenendo conto che villa reale maccabi devono ancora giocare una partita allora del gruppo a erano già a posto west m friburgo erano già sicuri del della qualificazione l'olimpiacos nonostante usate un attimo perso l'olimpiacos si 5 4 a 0 5 a 0 qualche era me l'ero già dimenticato nonostante la sconfitta abbastanza tranquillo perché a quattro punti il bacca topola ne ha uno solo si deve giocare la sfida tra bacca topola e olimpiacos e teoricamente in casa del bacca topolo non lo so forse in casa dell'olimpiacos poi vedremo però direi che l'olimpiacos è abbastanza tranquillo proseguiamo con il gruppo b dove olympic marsiglia e brighton sono qualificate tutte e due la ek e laia si giocheranno l'ultimo posto disponibile per andare in conference con la ek che ha due punti più dell'aias comunque bisognerà solo vedere tra le più barsi di e brighton quale delle due sarà prima e dovrebbe esserci la sfida brighton olimpi in marsiglia il 14 di dicembre che lo deciderà di attenzione perché vuol dire che una delle due potrebbe andare a beccare la roma a meno che la roma non faccia un miracolo ma la vedo dura anche perché non solo deve vincere la sfida che dovrà giocare ma dovrà anche sperare che lo slavia praga perda quindi un po difficilotta la questione andiamo al gruppo c gruppo c ancora apertissimo perché abbiamo il betis a 9 il rangers a 8 lo sparta praga 7 bisognerà vedere la prossima gara come quale sarà perché naturalmente se una di queste squadre qua affronta l'aris rimassol capì e gli altri due si sfidano tra di loro una elimina l'altra quindi poi vedremo che sfida ci sarà come dicevamo l'atalanta è prima matematicamente perché pareggiando con lo sport si porta più 3 sullo sporting ha lo scontro diretto a favore quindi anche se l'ultima la dovesse malauguratamente perdere potrebbe essere solo raggiunta dallo sporting che avendo lo scontro diretto negativo perché l'atalanta ha vinto in portogallo e pareggiato in casa in ogni caso sarebbe secondo quindi l'atalanta è già sicura di essere agli ottavi non deve fare preliminare non deve fare nulla operazione riuscita ecco per intenderci e poi dopo stulgrazer raccom sono finiti a pari punti quattro punti per uno che non fa male a nessuno e quindi nell'ultima giornata chi fa punti passa se non dovessero nessuna delle due fare punti la differenza reti a favore dello sturm ma credo che lo scontro diretto a questo punto sia a favore raccom ha vento vinto in casa dello sturm grazie però andiamo a controllare raccom sturm per curiosità per vedere quale delle due perché devi se io metto raccom sturm perché mi devi mettere sto raccom di te vi deve mettere quell'altro non c'è speranza proprio uno vuol vedere la partita di andata ed oggi deve far vedere l'altro malefici allora allora già comunque raccom ha vinto il trasferta la questa gara quindi sono a pari punti vedremo gruppo e l'ultima giornata deciderà chi è secondo chi è terzo chi va a casa perché comunque l'ASC può ancora superare l'Union San Giloua l'Union San Giloua potrebbe raggiungere il Tolosa ma ha una differenza reti peggiore quindi bisognerà vedere il Tolosa contro chi dovrà giocare l'Union contro chi dovrà giocare l'ultima è stata Tolosa-Union San Giloua quindi l'Union gioca con l'ASC gioca con Liverpool teoricamente il Tolosa appena ha giocato con Liverpool quindi presumo che ci sarà un LASC Tolosa e un Union San Giloua Liverpool quindi il LASC potrebbe approfittare del fatto che il Tolosa ormai è qualificato difficilmente l'Union San Giloua con Liverpool potrebbe 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 anche vincere però a quel punto bisognerà vedere la differenza reti e come sono andati gli scontri diretti nel gruppo F Rennes e Villareal sono già qualificati bisogna vedere quale delle due sarà la prima e chi sarà la seconda mentre invece il Panathinaikos è avvantaggiato sul Maccabi Haifa che però deve recuperare la partita col Villareal quindi se il Villareal vince raggiunge il Rennes a 12 punti e quindi ha ancora più motivazioni per giocarsi il primo posto però il Maccabi Haifa ha bisogno di fare punti perché sennò va a dormire al cinema vedremo come andrà Villareal Maccabi è una partita che si recupererà il 6 dicembre e poi il 12 dicembre si giocheranno gli altri incontri e sulla carta visto che c'è stato Maccabi Haifa a Villareal il Villareal gioca col Panathinaikos e gioca con Ren è una delle due ma poi vedremo anche il prossimo turno andiamo al gruppo G quello della Roma che si è inguaiata da sola pareggiando col Servet forse gli arrivavano le notizie che lo Slavia Praga stava perdendo 2 a 1 e inconsciamente si sono un attimino fermati poi è arrivato il pareggio dello Slavia Praga e poi si sono afflosciati ancora lo stesso quindi adesso abbiamo uno Slavia Praga a 12 e una Roma a 10 ma anche se la Roma avesse vinto andava a 12 con lo Slavia Praga hanno la differenza Reti completamente sballata perché lo Slavia Praga ha fatto 13 gol su BT4 la Roma 9 gol su BT4 quindi ci sono 4 gol di differenza mettiamo anche che la prossima giornata lo Slavia Praga vinca solo 1 a 0 la Roma per andare a pari dovrebbe segnare 5 gol allora loro avrebbero 14 gol fatti e 4 subiti e la Roma avrebbe 14 gol fatti e 4 subiti però lo scontro diretto è a favore dello Slavia Praga perché la Roma ha vinto 2 a 1 e lo Slavia Praga ha vinto 2 a 0 quindi per cui anche se la Roma finisce a pari con lo Slavia Praga lo prende nel pulipù anche se dovesse fare 6-7 gol alla squadra avversaria avere una differenza Reti migliore non gli servirebbe quindi all'ultima giornata la Roma dovrebbe sperare che il Servet batta lo Slavia Praga e loro battere lo Sheriff in casa che loro battano lo Sheriff è molto probabile il problema è il Servet può andare a vincere con lo Slavia Praga quindi per cui poi vabbè Mourinho l'ha buttata lì alla grande perché è guascone lui fa non è problema una partita in più stadio pieno grosso incasso e i nostri tifosi possono assistere anche a un'altra partita di livello sì però fai due partite in più rischi di andare a casa perché se giochi così rischi di andare a casa e quindi magari se andavi direttamente alle ottavi era meglio certo libidi nello stadio pieno concludiamo con il gruppo H con il Leverkusen 15 punti Quarabag e Molde che si giocheranno il secondo posto all'ultima giornata sono entrambi a 7 punti ma non ha capito perché hanno messo il Molde dietro al Quarabag visto che il Quarabag ha una differenza reti di meno 3 e il Molde ha una differenza reti di più 4 mistero delle classifiche sono a pari punti 7-7 a meno che il Quarabag forse ha lo scontro diretto favorevole avendo fatto 2 a 2 in casa del Molde e forse all'andata aveva vinto 1 a 0 adesso non ho voglia di andare a o forse devono ancora giocare l'ultima adesso andiamo a vedere le partite ragazzoli ultima giornata come avevo previsto Ren-Villareal si giocano il primo posto loro due in casa del Ren tenendo conto che bisognerà anche vedere il Villareal cosa ha fatto nel recupero perché siccome è probabile dovesse vincere Ren-Villareal si troverebbero a pari merito a 12 punti e a quel punto bisognerebbe vedere come è andata la gara di andata mi sembra abbiano pareggiato però controlliamo Villareal-Ren dovrebbe darmela perché non si è ancora giocato Villareal sì era finita 1 a 0 però tanto sono a pari punti ma era per capire il Ren deve vincere per vincere il girone il Ren deve vincere se dovessero pareggiare la seconda è il Ren la prima è il Villareal Quarabag-Aken è partita importante per il Quarabag è a pari punti con l'altra squadra col Molde quindi per cui battere l'Aken è un obbligo e poi dovrà stare a vedere cosa fa il Molde dipenderà anche se hanno lo scontro diretto uguale o meno poi abbiamo un Panathinaikos Maccabi Haifa il Maccabi a meno che non vince col Villareal fa un miracolo e va a pari col Panathinaikos allora magari se la possono anche vedere ma se no la vedo veramente grava per il Maccabi ripeto se vince in Grecia dovrebbe andare lui in Europa League cioè in Conference come avevo previsto Union Saint-Gillois Liverpool Slavia-Praga Servet Roma-Sheriff ditemi che possibilità Servet di andare a vincere con lo Slavia-Praga è vero che il pallone è rotondo eccetera eccetera però in ogni caso allo Slavia-Praga basterebbe addirittura anche il pareggio perché poi anche se la Roma finisce a pari con lo Slavia-Praga lo Slavia-Praga come vi dicevo ha lo scontro diretto a favore poi abbiamo un bel Leverkusen-Monde Lasca-Tolosa Brighton Olympique-Barsiglia per giocarsi il primo posto Lasca-Tolosa per giocarsi il terzo poi Betis-Siviglia Rangers è uno scontro diretto quindi è il Betis che sfida i Rangers in casa con due punti di vantaggio sulla terza che dovrebbero essere proprio no non so adesso ve lo dico no cosa ho fatto scusate eccoci qua allora è Quarabaga che nelle Leverkusen-Monde quindi il Quarabaga è avvantaggiato ragazzi miei Monde che probabilmente andrà in conference perché il Quarabaga gioca con l'Alken mentre invece il Monde dovrà giocare con Leverkusen capite che c'è un po' una piccola differenza poi avremo Aris Lemboli Massol Sparta-Praga Olimpia Cos Bacca-Topola Aia Saek West Ham Friburgo per giocarsi il primo posto nel girone Sporting Sturm Gras e Rakob Atalanta come vi dicevo sia lo Sporting che l'Atalanta sono già qualificate come prima e come seconda è uno sconto a distanza tra Rakob e Sturm che sono però distanziate da qualche punticino sono perfettamente in pari a quattro punti con una differenza reti quasi simile meno due lo Sturm meno tre la Rakob quindi le gare che si disputeranno tra due settimane bisognerà vedere se le loro avversarie scenderanno in campo con un minimo di cattiveria per vincere la partita o si scenderanno in campo in ciabatte perché tanto essendo già qualificati se ne fottano altamente e magari chi lo sa viene fuori la sorpresa che una delle due vince con le big del girone elimina l'altra io spero sempre che quando ci sono queste partite che hanno un senso perché poi ci sono quelle partite in cui una è prima sicura di essere prima eccetera l'altra è ultima o terza e non può fare non ha nessuna probabilità di diventare seconda ma contemporaneamente non può diventare l'ultima le fanno giocare lo stesso cioè come far giocare quando c'è il tennis no c'è il tennis c'è la Coppa Davis il punteggio è già 2 su 3 il punteggio è sul 2 a 0 e fanno giocare il doppio a che serve a che pro eh ma i ragazzi almeno si allenano eh ma i ragazzi almeno si divertono lo stesso eh ma ci sono gli spettatori ho capito ma ormai la gara è finita è 2 su 3 2 a 0 è chiusa infatti di solito il doppio non si gioca mai o se viene giocato lo giocano le riserve delle riserve per dire proprio perché ormai i giocatori hanno un bete già il successivo torneo e non la Coppa Davis soprattutto se è una finale o che cosa infatti la finale di quest'anno con l'Australia il doppio non si è giocato 2 a 0 chiuso il discorso quindi sono sempre quelle partite che tu non sai come cosa cosa mettere come oggi c'è stato un no va bene niente non c'entra nulla scusate divagavo ragazzoni mi sono dilugato troppo qua con l'Europa League però era giusto spiegare un po' la situation e devo dire che non è ancora parecchi gruppi sono ancora in divenire con squadre che possono ancora riuscire a dire la loro non sono in quasi nessuno dei gruppi non si è ancora definito la prima assoluta allora vediamo un po' West Ham Friburgo gruppo A se la devo giocare gruppo B se la devono giocare gruppo C sono in tre a giocarsela gruppo D se la devono ancora giocare no nel gruppo D è già risolta l'Atalanta è prima gruppo E Liverpool è primo gruppo F Villareale e Rennes se la devono ancora giocare poi nel gruppo G diciamo che al 90% lo Slavia Praga è primo ma non è ancora matematico e nel gruppo H il Leverkusen è matematicamente sicuro di andare agli ottavi e poi Molde e Qualabag si giocheranno la seconda la seconda piazza e la terza piazza per andare in conference quindi per cui solo l'Atalanta e l'Everkusen sono sicure di andare in prima fascia gli altri se la devono ancora giocare cioè di prima fascia sono sicuri di essere agli ottavi le altre se la devono ancora giocare tutte l'Olympic Marsiglia Brighton se la devono giocare Betis Rangers e Sparta Praga se la devono ancora giocare l'Atalanta già agli ottavi il Liverpool è già agli ottavi sono due il Red dovrebbe già essere agli ottavi dovrebbe ah si aveva vinto 1-0 quindi si ha lo scontro diretto a favore però il Villarreal potrebbe finirgli i pari perché c'era la partita da recuperare quindi non è ancora sicuro il Red di essere agli ottavi è sicuro di proseguire però bisogna vedere se la prima o seconda Slavia Praga e Roma nessuna delle due sa ancora quale delle due sarà prima e Leverkusen Qualabag il Leverkusen è tranquillo è primo poi Qualabag e World si giocheranno l'altro posto disponibile come vedete la conference uno si aspetta le nostre squadre faranno 18 punti sono gironi ridicoli la Roma ne ha fatti 10 in 5 partite media 2 punti a partita poi il Villareal ne ha fatti 9 con 4 partite il Villareal e il Red ne ha fatti 12 con 4 partite anzi 5 quindi i ragazzi miei e ancora tutti divenire uno dice ma invece no Liverpool Atalanta e no non il Bersiglia no adesso no Atalanta Liverpool e probabilmente probabilmente e poi il Leverkusen siamo arrivati a 4 Atalanta Liverpool Inter ah no perché anche l'Inter non c'entra nulla con qua Atalanta Liverpool probabilmente il Red e sicuramente il Leverkusen sono già sicuri di andare agli ottavi ne mancano 4 e poi bisognerà vedere chi sarà il 2 dicembre dovrebbero fare Giaglia sì perché ieri si è giocata la cosa quindi sabato dovrebbero fare lo spareggione di sorteggione di Già aspettate che controllo sorteggio Coppe Europee e poi ci salutiamo qua ci sono tutte le date così siamo sicuri perché sabato sapremo la nostra nazionale con chi giocherà però il resto dell'idea che l'Italia può temere solo ed esclusivamente alcune con squadra della prima fascia no qua è ancora quella vecchia vabbè comunque sabato si sorteggiano le nazionali e probabilmente se non ho visto male il 16 il 18 lì quello che è perché se si gioca non abbiamo ancora finito manca ancora una giornata quindi non possono fare i sorteggi prima di sapere come finiscono i gironi quindi per cui presumo che il venerdì successivo alle gare di Coppa faranno il sorteggione a meno che poi non lo fanno sabato mattina che mi girano i testi ah non mi alzo certo presto per vedere il sorteggio quando mi alzo guardo sul cellulare e osclero faccio yahoo detto questo ci vediamo alla prossima che veramente mi sono dilugato troppo ciao